Quando ti dicono se i videogiochi esistono ancora, ti basta semplicemente rispondere con una singola cosa. Il mercato dei videogiochi vale più della somma tra mercato della musica, del cinema, messi insieme, per due. Ciao, sono Samuele Sciacca, founder di Dynobross. Che cos'è Dynobross? Dynobross permette alle aziende di avere un modo alternativo di comunicare, come facendo videogiochi, in particolare Advergames. Permettiamo alle aziende infatti di comunicare utilizzando uno degli strumenti che ad oggi è più efficace di sempre, ovvero il videogioco. Quindi se il tuo obiettivo è promuovere la tua realtà, il tuo prodotto, i tuoi servizi, oggi c'è uno strumento ingangiante che sono proprio i videogiochi, che ormai sono nelle tasche di ognuno di noi. Come nasce Dynobross? Dynobross nasce da una semplice necessità, ma io posso effettivamente trovare il modo di vivere con la mia passione. Nasco come uno sviluppatore di videogiochi e quando in giro per il mondo scopro che molte aziende comunicano utilizzando i propri videogiochi, ho detto Aspetta, forse posso portare questa stessa cosa in Italia. Ed è per questo motivo che abbiamo realizzato ad oggi una realtà che aiuta le aziende a comunicare facendo videogiochi. Che servizi offrite? In Dynobross realizziamo videogiochi web. Videogiochi che possono essere giocati da un tablet, da un computer, da uno smartphone, semplicemente cliccando sul link, su un advertising, o ad esempio all'interno di un gadget nelle storie Instagram, oppure scannerizzando un QR code. E facciamo due tipologie di servizi. Il primo, videogiochi che possono essere giocati da casa o in qualunque parte del mondo. Se il tuo obiettivo ad esempio è fare lead generation, perché non lo fai con un videogioco? O se il tuo obiettivo è comunicare cosa la tua azienda fa, perché non lo fai con un videogioco, sarà sicuramente molto più ingaggiante e formativo. Il secondo servizio è semplice. Se ti sei mai chiesto come ingaggiare le persone durante gli eventi, bene, noi lo facciamo. Diamo agli aziende una soluzione super semplice da installare per far giocare le persone al tuo evento, intrattenerle e magari, se ne hai bisogno, raccogliere dei dati. Quali sono i prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sicuramente sono quelli di crescere e portare la nostra realtà anche in Europa. Ci stiamo un po' riuscendo, ma ci vuole ancora un bel po' di tempo. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo e sono molto contento che oggi il videogioco non viene visto come vent'anni fa. Perché puntare su Dynabros? Ma il motivo è semplice. Oggi la pubblicità è diventata un motivo per farti pagare. Quante volte schippiamo la pubblicità su YouTube o quando appare la pubblicità su Netflix, diciamo, che palle. Noi permettiamo alle aziende di fare pubblicità senza per forza obbligare il cliente a scoprire qualcosa su di te. Oggi, banalmente, dopo 5 secondi non vediamo l'ora di saltarla quella dannata pubblicità. Se invece creiamo un videogioco per promuovere se stessi o la propria realtà... E quindi questo è il motivo di Dynabros e vogliamo sempre di più comunicare utilizzando il videogioco.